E ormai alle porte il nuovo anno e come di consuetudine ci si prepara il gran cenone. Sarà quest'anno un cenone segnato dalla crisi economica, infatti la maggior parte dei nisseni, ma più in generale gli italiani, eviteranno le classiche abbuffate e preferiranno consumare a tavola carne anziché pesce come avviene tradizionalmente, ma non di certo per una questione legata esclusivamente al gusto. Calano i consumi, secondo un'analisi a livello nazionale delle col diretti, anche per quanto riguarda il consumo di frutta fuori stagione o di prelibatezze varie come caviale e ostriche che in passato venivano pagate a peso d'oro. Resistono invece i classici della tradizione gastronomica di fine anno, a cominciare dal classico cotechino con le lenticchie, che ha avuto un incremento nelle vendite del 9% e dello spumante, prodotto immancabile delle feste che sarà bevuto da quasi 9 italiani su 10. Non si rinuncerà al panettone che sempre, secondo stime della col diretti, verrà mangiato da 8 italiani su 10. Guarda, generalmente noi ci basiamo sempre su due menu, a base di carne e a base di pesce. Generalmente il capodanno è stato sempre dato sul discorso del pesce, fine anno il pesce sicuramente va per la maggiore, però devo dire che quest'anno la richiesta è stata molto inferiore rispetto agli altri anni. Sui costi noi partiamo da un prodotto base, diciamo che è a base di carne e ci basiamo sulle 15 euro a pranzo, poi naturalmente in base a quello che si chiede si sale. Però devo dire che quest'anno molte persone si stanno basando sul discorso carne, anche se molti stanno facendo carne e pesce, ma con quantità molto più bassa rispetto agli altri anni. Quest'anno la crisi sicuramente si è fatta sentire, anche da parte nostra risentiamo il sentore che c'è un po' così in generale. Speriamo che sicuramente il prossimo anno sia un anno migliore per tutti, anche se devo dire che alla fine le feste rimangono tali per tutti, però sicuramente all'insegna della restrizione.